Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi, potrò toccare i GRANAS e riusciremo a fare questo fottuto punto Cioè è incredibile No, non riusciremo a farlo Di sua Sanchez, Shirley, che non è da tutto andare Comunque va bene così, dai Comincia bene Però di solito se stai qua sulle partite che? Perdi Vai, di Cristo, si fa una gamma All'unisimo, per me questo qui il motto era qua Però non spero non mi cuore, mi ricambia di tasto Ah, sì, è vero Eh, vabbè, non so, adesso so come devo fa Per ora Orco 2, cioè, quanto è stupido Mo' potemo fare il gol Preciso, preciso, popa, non più ti fa tutto e poi non ti fa il gol Non faremo mai il pool Quanto arti mancavano 2 Buona, buona, buona leva, buona leva, buona leva, buona leva, è buonissima, come cazzo è entrata, come è entrata, è stato zumpita come il bambino Gooo Mamma mia, di Cristo si fa una canna Ancora, Umels, lo vede le mani Mamma mia, pallo Non fare inca... Nooo Non fare la pallo Volus, lo vede le mani Vabbè Babatta Gelvigno Finalmente esimo Anche il di Maria Lorenzo Laurenti Incredibile Lewandowski Lewandowski Lo vede immobile, lo segui immobile, immobile, ancora Lewandowski, ancora Lewandowski, LEVANDO... Mamma mia, regà Mamma mia, regà Mi guarda, la nostra è una pensia rara E poi non costa neanche tantissimo, cioè eccessivamente Per la forza del giocatore Che costa 150mila, magari Non mi ricordo che... E' andata per lui E' buona, è buona Eccolo No, lo sai che l'avevo superato benissimo, cioè C'è... C'è... C'è di qua, c'è proprio però, c'è una famiglia anche meglio Cazzo, stai a dire Sì, perché parte in velocità, a volte è utile, invece Che stai a dire C'è... Cocane, orco, canee No, non capito, cioè, è di Maria che Popo c'è Mamma mia, meno male Non sei santo, tu devi andare a Popo sempre sotto, pure se va sopra, perché tanto sopra ce sto io Marcolino Ti passo dietro, eh Marcolino Guarda, buttata adesso, cos'è Eh, no, no, stai in fuorigioco, ora si, però No, cazzo, tira, tira Marca, tira Marca puttana Se non parava, quando lo sto dietro al pallone, dalla subito, perché visto, con lì così stava un porta Guarda, visce, è che... In mezzo, per Lewandowski, di testa, perché? Oh Perché di testa? Io non so come si fa calcare un piano di testa Eh, hai visto Va bene, c'è sempre Lewandowski Eh, no, però, no, così no Perché delle volte, cioè... Boh Boh Non mi devo Cì, mi devo Cazzo, perché, ciò Fini i calciovoli, proprio, c'è Mamma mia, tu devi prendere i colli, devi prendere, tu devi prendere, tu lo meriti Cazzo, stava a fare Non so Che perché vado da lui Passassati qua No, no, ho fatto un pozzo di vero, va che la droga da vero, ce li crede Dai, che c'era o di sé Arconino marconino 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 fa cazzare marconino non ti sa margato troppo porca puttana torna a gioco se l'aspetta al petto moreno come una bomba no ho già messo il giocatore vaffanculo roi raffanculo curo dovevi cambiare il giocatore e devi cambiare il giocatore se vuoi raffanella di suona voglia consiglio superare un po' di giocatore al massimo non sono superati io sono migliorato l'unico video del calcio madonna che non ha parato questo compagni e compagni direi del livello del calcio niente raga stiamo una merda fallo eeeh dai subito piato a parla coglione che c'ha testi capito perchè per me dai raga se vuoi il bianco nooo invece si invece si che so ste iniziative che so l'ha fatto ha fatto il cross e invece doveva far passaggi per il trattato e non l'ha fatto non so per quale motivo dato poco con quella sbagliata ma mia cacca lo spinto è giusto hai visto hai visto l'altro 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 punto in trazione seconda e stavo e stava rigore che cosa fai che cosa fai che cosa fai che cosa fai ma non è rigore non è drunk vai che cazzo ma ne hai sbagliato oh meno male che non ti ho passato a te muovi però tutto eh buona alaba alaba nooo era fatta fa culo ah niente quante partite mancano quindi no vediamo un attimare la sigla dobbiamo fare cioè siamo benissimo ma dobbiamo fare un'impresa hai parlato hai parlato hai parlato hai parlato hai parlato hai parlato l'ha detto quarta partita mancavano eh semplice che non la vinciamo allora questa è la situazione manca una partita e dobbiamo fare un punto un maledetto punto un maledetto punto quindi ragazzi la prossima sarà una partita importantissima e niente noi ci becchiamo al prossimo video come sempre ciao o ne ho 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 ho